Eccoci di nuovo in studio, antica fiera di Godega di Sant'Urbano nel Trevigiano, una tradizione che per tradizione ospita una massiccia presenza di asine. Un po' l'elemento caratterizzante di questa fiera per conoscere questo animale e abbiamo parlato prima con un asinario e adesso abbiamo due signore che sono asinari, do il buongiorno a Sofia Brancanenti e Eugenia Dall'Aglio. Buongiorno. Gli asini sono un elemento complementare, conclusivo di quella che è una professione che è la vostra, di essere guida di media montagna. Sì, noi siamo accompagnatori di media montagna, nello specifico che sono del collegio delle guide alpine e delle marche perché appunto sono marchigiana e devo dire che tutto è cominciato proprio pensandoci bene dal terremoto del 97 perché il mio primo incontro con il mio primo asino della mia vita avvenne in quella circostanza proprio perché ci fu una stalla che ebbe danni per il terremoto del 97 e la proprietaria anziana non poteva più occuparsi di quest'asina. La storia purtroppo si è ripetuta. L'ho presa io quest'asina, la storia si è ripetuta ma tra un terremoto e l'altro grazie a Dio c'è stato l'incontro con Massimo Montanari e Eugenia Dall'Aglio che rappresentano la realtà di questa asineria di Reggio Emilia aria aperta. E quindi da prima è stato un incontro come allieva e poi è nata una collaborazione e in questa circostanza dove purtroppo siamo alle prese con un terremoto ben più grave di quello del 97 e per il tipo di danni e per la vastità del territorio che è andata a interessare. L'SOS è stato raccolto dagli amici collaboratori di aria aperta. Quale testimonianza porterà all'antica siera di Goteca Sant'Urbato? Allora senz'altro questa che intanto appunto gli asini sono una grandissima opportunità di incontro e di lavoro e che la solidarietà è una roba vera nel senso al di là dispetto di tutto quello che viene detto purtroppo dalle istituzioni e stiamo assistendo a un tempo rallentatissimo in questo terremoto rispetto purtroppo ai terremoti della storia del nostro paese. Questo è il più lento in assoluto come intervento. Ma perché è talmente vasto, perché è talmente distribuito ed è stato talmente distrutivo che quindi necessariamente dilazione ai tempi di intervento? Questa è senz'altro una causa perché il territorio è veramente molto vasto e siamo ancora alla conta dei danni. Quindi a sette mesi dal terremoto i dati che sono ufficiali non sono ancora completi e sono destinati a salire. E quindi senz'altro la caratteristica di questo terremoto rende molto complicata la situazione. Ma purtroppo la situazione è complicata anche da una burocrazia a cui stiamo assistendo in questa circostanza perché non si ripete lo stesso modello di intervento che fu invece attivato nel 1997 e fu molto efficace. Semplicemente perché col cambio di squadra di governo si è scelto di cambiare anche il tipo di modello di intervento, non di conservare un modello che invece aveva funzionato. Aveva funzionato perché? Qual è l'elemento che manca adesso? In questo, guarda, l'elemento più eclatante è che nel caso del 1997 la presenza delle istituzioni è scesa veramente in campo. Significa che il... Soldi, persone? Soldi, persone ma soprattutto il... Semplificazione. Il dirigente, scusami, della ricostruzione che all'epoca, a cui fu affidato all'epoca l'incarico, ha spostato il suo ufficio nella zona terremotata ed è stato tutti i giorni a contatto con la realtà, quindi ha contato, ha osservato e ha organizzato un intervento concreto. In questo caso no, anche perché in questo caso siamo in una fase in cui le province sono scomparse e rimane la Regione come interlocutore per un cittadino. La Regione ha sede ad Ancona, Ancona è una città distante, 150 km dal territorio dove sta, ma siamo alle prese con questo danno e per una complicanza proprio burocratica non c'è la presenza reale e quindi la constatazione immediata di quanto è necessario. Come noi possiamo aiutarvi nella solidarietà? Perché penso al tuo lavoro, tu sei una guida di... Cioè, veniamo in quei territori, facciamo un percorso, un'escursione... Guarda, questo è sicuramente... Gli asini in modo da essere, insomma, anche condividere, può essere una strada. Questa è sicuramente una strada, mi viene da dire, percorribile fra un po' di tempo, perché purtroppo il territorio colpito dal terremoto ancora è in una fase di monitoraggio, quindi non è in una condizione di sicurezza, tanto che il Parco dei Sibillini e dintorni, i sindaci hanno emesso una serie di ordinanze di chiusura di sentieri perché non sono in sicurezza. Ma magari si può fare una camminata in pianura? Sì, questo si può fare. Gli asini vanno ovunque? Vanno dappertutto, dal mare alla vetta vanno. Quello che sta accadendo invece come realtà di solidarietà è appunto un evento come questo di Godega, dove la mia asineria e un'altra asineria, sempre in questo caso dell'Umbria, saranno ospiti appunto della fiera di Godega come segno concreto di una solidarietà e di una collaborazione. I tuoi amici hanno subito dei danni, la tua asineria? Fortunatamente la stalla no, in quanto la stalla è in legno, ma la sede della asineria, che è una sede in muratura a 50 metri dalla stalla di legno, è inagibile con ordinanza di sgombero. Gli animali sono ancora presenti nella stalla, ma la struttura è in muratura dove non solo c'è la sede della asineria, ma anche la sede dell'attività didattica, quindi io ricevo i bambini, le gite della scuola, insomma tutta l'attività non è più praticabile in quella struttura, perché la struttura è appunto inagibile con un'ordinanza di sgombero, in attesa di un futuro che non è chiaro. Quindi adesso lo stai lavorando più o meno? Non sto utilizzando quella struttura lì, ma appunto l'SOS è stato raccolto dai collaboratori e amici di Aria Aperta e quindi stiamo lavorando insieme. Quindi lavorate all'antica fiera di Godega. Quindi gli asini sono anche un bel veicolo di valori umani. Sono anche un conforto? Ah, caspita, io quando mi sento un po' destabilizzata anche da tutti gli accadimenti del terremoto, vado in stalla e solo il respiro, il contatto è una cosa straordinaria. Eugenia, perché il tempo corre, era legittimo lasciare lo spazio, perché insomma sono storie che è bene raccontare. Eugenia Dallaglio, giovanissima, hai deciso di fare l'asinara, quindi è una professione. È la mia professione e ne sono molto orgogliosa, perché è frutto di un lungo cammino a fianco a Massimo Montanari, il mio collega. Diciamo che l'ho conosciuto, grazie anche agli asini, in un campestivo da lui organizzato quando avevo solo sette anni. E da lì poi ho iniziato il mio cammino a fianco all'asino e mi ha portato, dopo il liceo, a entrare in società con lui, quindi diventare suo collega e proprietaria di 19 asini, adesso a Reggio Emilia. 19 asini? 19 asini, abbiamo 19 asini e siamo... E ti occupi di loro in tutto? In tutto. E' una giornata tipo? Allora, diciamo che essendo solo in due abbiamo di tutte e di più da fare, quindi oltre a gestire la stalla, poi dobbiamo comunque far conto a tutte le attività, sia con le scuole che con gli asili, magari cooperative di ragazzi adulti disabili. E adesso noi siamo nel pieno della nostra attività perché ci parte la stagione inaugurandola con l'antica fiera di Godega, quindi ci siamo. Quindi avete anche attività al di fuori della vostra stalla dove ce l'avete? A Reggio Emilia. A Reggio Emilia in città. Quindi fate attività sia in loco che ovunque in Italia. Noi lavoriamo tanto nella città, si è creata questa grossa sinergia con la città, ormai tutti ci conoscono e abbiamo ormai un contratto non firmato, ce l'abbiamo, un contratto non firmato col comune dove siamo liberi di camminare per le vie della città, anche in centro storico, per accompagnare gruppi di reggiani, ma non solo, anche di persone che vengono a conoscere la nostra città per le vie. Ma questo succede solo a Reggio Emilia? Ci sono anche altri sindaci? Ma diciamo che il sindaco di Godega ci ha permesso tanto alla propria città, quindi per questo noi lo ringrazieremo sempre perché appunto, come diceva Massimo, lui è stato, è il promotore di tante iniziative che poi dopo hanno dato il via nella nostra città a altre attività e non solo nella nostra città. Quanti anni mi avete portato a Godega? Allora, ad oggi ci sono circa 12 asini, però poi nel weekend, quando la fiera partirà sabato, ce ne staranno intorno a una trentina, quindi amici di tutta Italia verranno su con i loro asini per far partire alla grande questa fiera. E ci sono persone che, dopo aver tu appunto racconti di questo campo estivo, di innamoramento, di questa professione, ci sono persone che magari avendo un giardino dicono, beh, voglio un asino come animale domestico, lo consigli, è da pazzi? Noi lavorando con tante famiglie, perché appunto essendo delle guine ambientali escursionistiche, organizziamo escursioni di più giorni, abbiamo tante famiglie che si innamorano, ma tanti anche bambini, adulti, non solo famiglie, che si innamorano di questo splendido animale, e ci chiedono, ma io ho il prato, come faccio? Vorrei prenderlo. Noi diamo il libero consenso, ovviamente, dando di qualche dritta, l'importante, visto che è un animale molto, è da branco, è un animale che soffre la solitudine. Se si entra in un recinto e hai 2, 5, 11 asini, ti arrivano tutti intorno per conoscere, per sentirti, per spingerti, per grattarti, quindi sono animale. Quindi o fai famiglia in casa, sul divano. Cerchiamo di suggerire di prendere un asino, o almeno due, oppure affiancare una capra, un poneo, un cavallo, comunque non lasciarlo solo. Famosi musicanti di ebrea. Esatto. Oppure è possibile magari dire, vabbè, io in qualche modo adotto un asino che vive nella stalla insieme agli altri asini, però è un po' il mio asino? Questo da noi è successo, abbiamo una bimba che si è innamorata in giro per la città di una nostra asinella e l'ha adottata, l'ha adottata e viene circa ogni settimana nella nostra stalla, gli dà da mangiare, la porta in giro, raccoglie la cacca, la spazzola ed è nata questa bella amicizia che sta andando avanti, quindi siamo molto orgogliosi di questa attività. Prima Sofia diceva, quando io ho un momento di così, che sono giù, vado nella stalla e mi tiro immediatamente su, un asino, un'asina, che cosa rappresenta per te? Diciamo che ad oggi sono la mia vita, semplicemente, perché grazie a loro sono cresciuta, con loro sono cresciuta e sono animali che trasmettono tanto e io come persona riesco, grazie all'asino, a far trasmettere tante emozioni che provo io, quindi sono i miei vettori, i miei vettori di emozioni, di sensazioni e la gente lo capisce. Quanto l'andamento lento che li caratterizza diventa un monito per noi che sembriamo delle schegge impazzite? Ma io e Massimo la chiamiamo la filosofia dell'asino, quindi respira, osserva e giudica ciò che hai davanti e questo ti permette di prenderlo con calma e poi riflettere su quello che hai davanti, appunto, e fare le tue scelte. La filosofia dell'asino è rallentare, osservare, non farsi prendere dalla frenesia di cui siamo circondati. Ed è una bella filosofia. Io ringrazio Sofia Brancanenti ed Eugenia Dallagno per questa testimonianza. subito dopo la velocità continuiamo a parlare dell'antica fiera di Godega di Sant'Urbano e incontriamo in sita qualche curatore di una speciale mostra. Tra poco, grazie.